Un altro impianto sportivo preso di mira dai ladri e come sempre tanti danni, ma scarno bottino. Questa volta, e dopo il tiro a volo, è toccato le strutture gestite dall'associazione sportiva Val Metauro. Due campi da calcio in erba, spogliatoi e due depositi. Come da prassi, entrati ovunque, alla ricerca di chissà quali tesori nascosti, mettendo tutto sotto sopra. Sono passati dalla recinzione sul retro, tagliando la rete al riparo, dalle forti luci che illuminano la zona provenienti dalla vicina centrale Enel. Ed una volta dentro, rotta la serratura del magazzino attrezzi, da dove sono state portate via alcune latte di benzina, sono passati poi ai lucchetti del deposito sportivo, dove hanno portato via quello che c'era, tra cui un vitale defibrillatore, di cui la società era stata dotata con una donazione da parte dell'assessorato allo sport del valore di un migliaio di euro, che ora dovrà essere ricomprato dalle casse della società, pena la sospensione delle attività agonistiche. Sì, mi ha chiamato al mattino alle otto e mezza, che era venuto lui per fare il solito taglio dell'erba, mi dice qui è tutto rovinato, è tutto spaccato, vieni subito. Dopo sono venuto io insieme al Presidente a fare il sopralluogo e abbiamo visto i danni che avevano procurato alla fine, il valore forse non eccessivo, ma i danni da rimettere a posto abbastanza. Danni alla struttura, a parte il disordine, però tutto sommato contenuto. Sì, hanno rotto lucchetti per entrare, armadietti come no, però niente di particolare, anche perché qui valori non è che poi ce ne siano chissà quanti, se avete il valore è poco qua. Tra l'altro voi avete un'attività agonistica abbastanza importante, questo non subirà contraccolpi però? No, adesso quello no, sicuramente, abbiamo cercato di riparare i guasti, i guasti che hanno creato loro per poi ripartire, su, cioè ripartire. Grazie.